Siamo in gita a Parigi e siamo venuti praticamente a Disneyland insieme a Matt, Mark, Clara, Giulia, Bet, Simone, Cichime, un po' di gente Oh ciao ma tu sei uno di quelli degli amichetti? Si, si, vergognati Abbiamo visto tutto quanto il parco ed è molto romantico c'è una bella atmosfera tutto quanta Quindi mi sono detto, visto che sono qua con Clara, perché non chiedere a Simone di sposarmi? Simone, io oggi ti chiedo di sposarmi Si Ok, a posto, l'anello lo vuoi scegliere te o no? Ok, quindi possiamo andare... Qualcun altro vuole scegliere l'anello di Simone? Ma che cos'è? Ma la giottra, ma scusate Adesso andiamo a scegliertelo tranquillo, hai un badge di 25 euro Se tu mi vuoi sposare, paghi tu, paghi tu Paghi tu, paghi tu Si, pago io, però hai un badge di 25 euro Io solo paghi tu, te lo chiedo di 25 euro Bell'anello vibrante Wow Matt, sei tornato in morbissima Sei felice che chiedo a Simone di sposarmi? No Perché? Volevo essere la prima Ma ma... Sei la seconda Cioè, la prima sei la prima, lui è il primo Lo puoi guardare se vuoi eh, cioè io non m'offendo Ora in realtà è tutto un trucco che poi chiedo a lei di sposarmi della proposta vera Minchia sarebbe benissimo Sarebbe tipo la cosa più figa del mondo 25 euro Eeeh, 25... Il badge resta quello eh A me va bene, è il mio primo anello, quindi a prescindere da me Ma poi lo posso tenere? Si, beh, è tuo, scusa eh Posso tenere? Ci sono quelli di plastica da 3 euro Oh ecco, questi, 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 questi qua sono perfetti Madonna, questi qua sono proprio perfetti Quelli che cerco brutti Allora stiamo scegliendo la taglia Solo che Simone ha delle dita salcicciotte enorme E un pochino si scappa I guanti da barbono La taglia è 59, è più grande Ti entra neanche questo? Hai perso il guantino poi? Non lo metto tutto Perché poi poi ora io non riesco a C'è tipo questi che posso allargare magari Questo potrei allargarlo Se lo sforzo E c'è la S di Simone con Topolino Il lebellino questo Lo sforzo lo allargo viene perfetto Ok abbiamo votato per l'anello della S Dato un po' di gelosia di Clara Che si compra gioielli da sola nel mentre Ti amore Guardate che bellino Guarda che bellino è per Simone Guarda Guarda quanto spendo per Simone Volevo fare la proposta Simone adesso Ma ci sono sti cazzo di furri Che hanno bloccato la strada Bastardi Vengo da Reggio Emilia Non pago le tasse Di sta merda sono il capoglasse Sono il cugino di Murri La mia squadra è formata da furri Ti spacchiamo la testa se sgrivi Pezzo di merda Ti ammazzo i parenti Fiorri Fiorri Mi piacciono i Fiorri Fiorri Mi piacciono i Fiorri 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 Mi piacciono i Fiorri Vedete da fare Prima i Fiorri Poi gli immigrati Ah questo matrimonio non sa da fare Ok pensavo un po' meno pubblico Però a quanto pare Questo è quello che passa al convento Ok Va bene Ce la si può fare Ce la si può fare Oh mio Dio Oh mio Dio sta per succedere Oh mio Dio sta per succedere Oh mio Dio Oh mio Dio Ormai sono cinque anni Che stiamo assieme Dio meno E per me sei una persona veramente speciale E questi cinque anni spero che durino per molto più tempo di quanto è stato finora Vorrei che fosse per tutta la vita Ma sta per succedere Simone non ti ricordo Simone e Rosini No no Si cazzo Si cazzo Si cazzo Laga non ci posso vede Evviva l'amore Venga lo c'è Oh Cristo Ci sono state un po' di urla Si Ci hanno chiesto la foto Si C'è un amico in meca Ci hanno chiesto la foto Disney Un film di fotografo di Disney ci ha chiesto la foto Siamo una bella colla Sono achievement questi Siamo la leone Leo Squinananus Leo Squinananus Fa vedere l'anello Lo sapevano Lo sapevano No, no, no! 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 E nulla tal! No, no! No, no! Dov'erré víttura in Groenlandia E aver accessoati ai contenuti- che non sono disponibili o ai determinati giochi e siti che in Italia non sono presenti NordVPN, inoltre, spostando il vostro IP vi garantirà più sicurezza d'atta ki-hacker infatti la vostra connessione sia disposizionale privato che a livello pubblico sarà più protetta NordVPN, infatti, protegperà i vostri dispositivi anche nelle connessioni pubbliche nel quale, è molto facile rubarvi dei dati NordVPN dara protezione alla vostra connessione ma anche al vostro computer infatti NordVPN si è evoluto e non è più solamente un VPN ma vi protegge anche da malware da virus E qualsiasi cosa potrebbe inficiare sulle performance del vostro computer NordVPN infatti andrà ad analizzare ogni singolo file ed entrate nel computer Vedendo se ci saranno presenti i malware e garantendovi sicurezza Ringrazio ancora NordVPN per la sposta di questo video e di questo viaggio A me è regalato un bellissimo viaggio in Francia e a voi può regalare un mese gratis Infatti NordVPN garantisce il soddisfatto e rimborsati dopo 30 giorni di prova Qui sotto in descrizione trovate tutte le informazioni